dal 4 maggio inizia la fase 2 e con la fase 2 riaprono i parchi di roma attenzione fase 2 significa allentamento delle regole di lockdown ma non è finita la pandemia sicuramente il contagio sta iniziando a crescere in misura sempre minore ma è ancora presente questo vuol dire che ci potremo riaffacciare nelle nostre aree verdi rispettando però alcune regole ve le dico subito queste regole riguardano il distanziamento sociale e il divieto di assembramento che cosa vuol dire che potremo andare a camminare o a correre nei nostri parchi ma dovremo farlo rispettando delle regole di distanziamento in particolare se si fa sport bisogna rimanere distanti almeno due metri l'uno dall'altro diversamente rimane in vigore la misura del metro di distanza il divieto di assembramenti significa che non si possono fare picnic non si possono fare grigliate nei parchi allo stesso tempo lo sport deve essere fatto in modo individuale quindi niente partite di calcio niente partite di pallavolo almeno in questa prima fase questo ci consentirà di mantenere quelle regole che hanno consentito a roma ai romani di reggere durante un periodo molto molto lungo lo voglio dire non l'ho mai nascosto sono molto orgogliosa di come roma i romani voi vi siete comportati in questo periodo nel quale abbiamo dovuto rispettare delle regole molto rigide immaginatevi una città di tre milioni di abitanti che è riuscita a contenere il contagio in misura estremamente elevata e questo è stato possibile grazie al rispetto che ciascuno di voi ha messo nelle in quelle che sono le nuove regole di convivenza sociale sono certa che saremo in grado di farlo anche adesso so bene quanto sia stato difficile rimanere chiusi in casa per tutto questo tempo so bene quanto questo sia stato difficile soprattutto in quelle situazioni di convivenze forzate o di solitudini forzate o ancora quando ci sono dei bambini in casa che non possono uscire a giocare all'aperto ci sono persone con dei problemi hanno necessità di sfogare diciamo la loro energia adesso si potrà cominciare a rimettere il naso fuori a riprendere qualche attività ma vi chiedo una grandissima cortesia che poi è in realtà una prescrizione da dpcm rispettiamo queste nuove regole distanziamento niente assembramenti perché questo è quello che ci consentirà di mantenere i parchi aperti altrimenti dovremo emanare un'ordinanza con la quale li chiudiamo quindi diciamo che è una concessione che ci viene fatta dalla presidenza del consiglio dei ministri ma dobbiamo meritarcela e per meritarcela dobbiamo mantenere il rispetto di queste regole ancora all'interno dei nostri parchi troveremo la protezione civile troveremo le persone volontari della guardia ambientale nazionale delle guardie zoofile che ci potranno dare qualche consiglio aiutare alle quali ci potremo rivolgere in caso di necessità quindi non saremo soli non sarete lasciati soli io ho grandissima fiducia in voi siete stati bravissimi nella fase 1 io credo che saremo molto bravi anche nella fase 2 si tratta di scrivere una nuova pagina nella storia della nostra città sicuramente le regole sono un po diverse ma sono certa che saremo più che in grado di rispettarle tutti insieme grazie 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 a tutti.